Anche quest'anno per i Muadim bisognerà fare i conti con le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria e l'accesso alle sinagoge continuerà a essere consentito solo con prenotazione. I rischi sono dimostrati dal caso israeliano. Israele è una nazione che ha promosso una vasta e tempestiva campagna di vaccinazione. Addirittura le persone oltre i 60 anni hanno già ricevuto la terza dose. Eppure i contagi in questa nazione dopo un decremento notevole adesso sono in crescita molto preoccupante. Mancato il raggiungimento dell'immunità di gregge, convinzione che il vaccino avesse sconfitto la pandemia senza altre misure e under 12 come serbatoio del virus sono la base di questa situazione. Ecco quindi alcune utili raccomandazioni per festeggiare in sicurezza. Anche se la legge non prevede il possesso del Green Pass per l'accesso ai luoghi di culto, però questo è fortemente raccomandato. È importante mantenere le distanze di sicurezza perché con la variante Delta è importante osservare addirittura una distanza di due metri. La mascherina preferibilmente FFP2 va bene anche la mascherina chirurgica a patto che venga cambiata ogni quattro ore di uso perché dopo quattro ore la sua capacità di filtrante è notevolmente ridotta. Quando dico di indossarla bene si deve essere coperto naso e bocca completamente. Non ci deve essere scambio di oggetti fra le persone e infine la perfetta igiene delle mani. Ovviamente vanno assolutamente evitati gli assembramenti domestici salvo quelli tra conviventi abituali e anche quelli fuori casa. Incontrarsi tra persone che non sono conviventi abituali moltiplica il rischio di contagio. A questo punto non mi rimane che augurare Shana Tova e Kadima Tova.